Tra campo e mercato, Taranto e Brini si preparano ai rispettivi impegni di campionato. I rosso-blu di Mister Capuano sono attisi della difficile trasferta di Messina, dove saranno sicuramente privi di Ferrara squalificato e di Mastromonaco attualmente indisponibile. E saluti anche Antonini che quest'oggi sarà ceduto al Catanzaro. Alla fine ha prevalso la volontà del difensore centrale nel trasferirsi in terra calabrese. Un'operazione che tra fisso e bonus frutterà nelle casse societarie del Taranto una plusvalenza di circa 450.000 euro. Gli Ionici annunceranno in giornata anche l'ingaggio di Federico Valietti, giocatore che ha disputato la prima parte di stagione col Vicenza. Il classe 99, Scuola Inter, arriva in presido dal Genoa. In casa Brindisi si prepara il delicatissimo derby contro il Cerignola. Ieri in conferenza stampa il presidente Arigliano ha ribadito la volontà di mantenere la categoria fino all'ultima giornata con o senza play-out. Pinto e Bonini saranno già a disposizione di Mister Roselli. In settimana è arrivato Bagatti per rinforzare la linea mediana, mentre Ganza ha resciso il contratto. Rimane sempre viva l'opzione Mazzocco, attualmente a Lavellino.